La provincia di Mantua ha aperto il nuovo anno con i dati più alti di contagi da Covid di tutta la Lombardia rispetto alla popolazione residente. I nuovi positivi sono stati 328, ma questo trend ha caratterizzato tutto il mese di dicembre, al punto che il mantuvano è risultato il territorio nell'ultimo mese con il maggior incremento di positivi. Il trend viene analizzato non senza preoccupazione anche da SST Mantua, ecco quanto spiegatoci dal direttore generale Raffaello Stradoni. Non è molto tranquillizzante, guardate qui abbiamo fatto il grafico di come sta andando. Allora premesso che come vedete ci sono parecchie oscillazioni sia settimanali che giornaliere, ma queste dipendono dal numero di tamponi fatti, dalla velocità con cui riusciamo ad avere gli esami, più da argomenti tecnici che non per motivi epidemiologici. Per ovviare queste oscillazioni noi usiamo una tecnica che si chiama media mobile a sette giorni. Praticamente prendiamo sette dati e ne facciamo la media, poi scartiamo il primo e mettiamo dentro un dato ulteriore sull'ottavo giorno, per cui è sempre una media di sette giorni. Come vedete questa media mobile ha mostrato una fase iniziale che è l'inizio appunto della pandemia. Più o meno a questo punto qua c'è stato il lockdown e la pandemia è aumentata ancora a livello di numero di casi giornalieri, medi, fino a che ha raggiunto il massimo per la nostra provincia, intorno ai 240 casi medi giornalieri al giorno. Dopo per fortuna si è assestata e ha cominciato piano piano a scendere, ha cominciato a scendere, ha cominciato a scendere, ha cominciato a scendere. Quando siamo arrivati qui invece, con una certa sorpresa nostra e anche preoccupazione, la curva di discesa si è bloccata e ha invece assunto un andamento praticamente orizzontale. Noi adesso abbiamo una media, grosso modo che si attesta, intorno ai 140 nuovi casi al giorno, che sono tanti, sono tanti per la nostra provincia. Devo dire che non si capisce ancora bene perché succede tutto questo. Ne abbiamo parlato anche con il collega della ATS, il quale ha proposto di farci sopravalutarlo, insomma fare uno studio ed eventualmente provare a inviare i nostri campioni a un istituto universitario perché vengano mappati per capire se il virus ha avuto qualche mutazione o qualche andamento diverso. Peraltro noi siamo estremamente vicini alla provincia di Verona e anche la provincia di tutto il Veneto ha un andamento di questo genere, cioè il Veneto non ha avuto un picco ma è salito e poi quando è arrivato il picco ha cominciato ad oscillare mantenendo un andamento suborizzontale. Può anche darsi che sia un effetto alone rispetto a che cosa sta succedendo nel Veneto. Può anche darsi che ci sia una specie diversa di virus che è diventato più infettante, anche se non più aggressivo perché per quello che vediamo noi gli effetti di patogenicità sono simili a quelli che si vedevano prima, non abbiamo notato particolari mutamenti. Noi ovviamente speriamo molto nel vaccino, abbiamo già fatto le prime 50 somministrazioni e non abbiamo avuto effetti collaterali di sorta, solamente uno dei nostri colleghi ha avuto quella che in gergo si chiama una sindrome vagale, sostanzialmente gli è calata la pressione, l'abbiamo disteso sul lettino, è stato lì 5 minuti, poi se ne è andato via calmo e tranquillo. La novità tra l'altro di questi giorni è che l'AIFA ha consentito al fatto che da un'unica fiala invece che prendere 5 dosi ne possiamo prendere 6 e non è cosa da poco perché significa il 20% in più e quindi anche questo ci gratifica.